All'arrivo del Natale manca ancora un po', ma l'atmosfera che si respira è già quella tipica delle festività. E a Goderne, si sa, sono soprattutto i bambini che anche quest'anno potranno incontrare il babbo più famoso del mondo senza andare troppo lontano. Il merito è dell'iniziativa organizzata dall'art director Sabino Matera, che ha trasformato una dimora storica nel centro di Andria, in un luogo inondato di magia dove i desideri dei più piccoli possono diventare realtà. Si tratta della casa di babbo Natale con i suoi elfi allestita nella suggestiva ex villa Bonomo di via Brindisi. Qui, durante le feste, Santa Claus e i suoi simpatici amici accoglieranno i bambini ed i loro genitori per vivere insieme le emozioni del Natale. Quest'anno ci siamo superati, abbiamo messo su veramente una grande realtà che è in questa villa storica, una delle ville più storiche di Andria, che l'abbiamo un po' riessumata, se così si può dire, e abbiamo realizzato veramente una location con una magia unica. Abbiamo, partendo dal bosco, dal Pozzo della Solidarietà, dal salone di babbo Natale, la stanza polare, l'Oriente Express, delle torte e poi per finire la stanza delle feste, dove magari si festeggiava una volta, tantissimi anni fa, quando ci si riuniva in famiglia, il calore, la tradizione, quello che oggi purtroppo si sta perdendo. Ma noi cercheremo di mantenere duro per far capire, per trasmettere ai nostri piccolini, ma non solo, per far rivivere, come dicevo poc'anzi, i nostri anziani, quella che è stata la loro infanzia. Tante le attrazioni riservate a grandi e piccini. Ogni angolo della villa diventa un luogo magico, a partire dal grande giardino che, tra migliaia di luci colorate, ospiterà delle suggestive casette in stile tirolese, la slitta di Santa Claus e auto d'epoca. A fare da cornice l'antica dimora andriese, letteralmente tirata a lucido per le feste. In tanti volevano scoprire la realtà di questa villa che è stata abbandonata da tantissimi anni. C'è stato veramente, come dicono tantissime persone, un coraggio unico. Io infatti mi sono rimboccato le maniche. Sono qui esattamente dai primi di giugno, pulita, dipinta, rettificata e poi quello che abbiamo realizzato all'interno, che io vi invito a venire a visitarla. Tra le sorprese più attese, destinati ai più piccoli, ci sarà il Pozzo della Solidarietà. Una stanza dove i bambini potranno lasciare i giocattoli dei libri usati portati da casa per regalarli ai loro coetanei meno fortunati. Per un Natale, all'insegna del prossimo, che è sempre l'obiettivo più importante di questa iniziativa. Ho voluto anche quest'anno e secondo anno fortemente con me i ragazzi del Centro Zenit, che togliendo il ricavato che noi prendiamo all'ingresso del nostro botteghino, una parte è destinata a tutte le spese che abbiamo sostenuto, che sono state veramente tante, e poi una parte sarà devoluta al Centro Zenit. La casa di Babbo Natale, con i suoi elfi, spalancherà le sue porte tutti i giorni per l'intera durata delle festività natalizie. Saremo aperti fino al 6 gennaio 2020. Saremo qui, viviamo insieme in questa magia. Esattamente gli orari sono dal lunedì al sabato, dalle ore 17 alle ore 22.30, la domenica dalle 10 alle 13, dalle 17 alle 22.30. Il giorno della vigilia di Natale faremo un aranio continuato dalle 10 alle ore 19, Natale sempre mattina e sera, Santo Stefano, fino all'Epifania, perché concluderemo il giorno dell'Epifania qui con un'estrazione solidale.